qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri la visione ben trovato niccolo ma serezio è un piacere fabio orsini al vostro servizio ho sentito molto parlare di voi da mio cugino bartolomeo dal viano un abile guerriero fabio ci ha messo a disposizione un magazzino sull'isola tiberina so che in toscana siete abituato a ben altre comodità va benissimo bene io vado a occuparmi dei preparativi per la romagna oggi cesare comanda i miei uomini ma confido che presto saremo liberi ora propongo iniziare a pianificare l'assalto ai borgia pensi di essere pronto per una mossa del genere sì per esempio sai dove le truppe dei borgia abbiano condotto caterina sforza cosa ignori altresì che i borgia hanno messo le mani sulla mela dell'eden abbiamo perso la mela quindi non conosci la situazione del nemico abbiamo almeno qualcuno che possa lavorare per noi pochi i nostri mercenari sono bloccati dagli alleati francesi di cesare abbiamo delle ragazze in un bordello frequentato da cardinali e altri romani importanti ma la proprietaria è indolente e preferisce frequentare le feste piuttosto che appoggiare la nostra causa e che mi dici dei ladri della città esiste una gilda sì ma si rifiutano di trattare con noi ignoro il motivo cosa intendi fare beh farmi degli amici di trattare con noi di trattare con noi Grazie a tutti.